Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi affrontati in Consiglio regionale dall'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando delle attività della Commissione Sanità del Consiglio regionale che continua in questi giorni il proprio tour nelle principali strutture regionali, stavolta in provincia di Pisa. Visita della Commissione Sanità del Consiglio regionale all'ospedale Cisanello di Pisa nell'ambito del tour di sopralluoghi nelle principali strutture sanitarie della Toscana. La delegazione ha ispezionato il cantiere del nuovo ospedale Santa Chiara, il Dipartimento di Emergenza Accettazione e il Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica. La fine dei lavori per la realizzazione del nuovo Santa Chiara è prevista per dicembre 2025. I trasferimenti dovrebbero concludersi a luglio 2026, mentre la consegna delle strutture del vecchio ospedale a dicembre 2026. Si vede il lavoro della politica, io ricordo quando inizia il mio impegno in Consiglio comunale si parlava di questa grande struttura e portava Pisa a diventare sempre più eccellenza mondiale nella sanità. Da quando divenni consigliere regionale mi impegnai perché quelle parole, quelle idee si trasformassero in fatti concreti. Essere qui oggi, vedere il cantiere che cresce, vedere tante donne e tanti uomini impegnati, realizzare un cantiere mentre l'ospedale in funzione non è semplice, quindi un grazie a tutti, ai progettisti, a chi ogni giorno ci lavora, alle maestranze, grazie anche ai professionisti della sanità, non è semplice riuscire a portare avanti tutto questo insieme. Oggi qui siamo con tutta la commissione consigliare, in questo grande giro d'ascolto che abbiamo messo in piedi, stare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni, perché poi questa struttura va riempita di professionisti, di competenze, di tecnologia, perché il futuro della sanità passerà attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso i big data, attraverso tutte quelle tecnologie che hanno un obiettivo, migliorare la vita delle persone, perché ogni scelta che noi facciamo la dobbiamo fare, pensando al cittadino e pensando che un bimbo che nasce in Garfagnana deve avere gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze o a Pisa. Ecco che le tecnologie svolgeranno un ruolo importante, noi siamo qui proprio in questo giro d'ascolto che è partito dal Grossetano, oggi a Pisa, poi girerà tutti gli ospedali della Toscana. La politica ha bisogno di essere all'altezza degli occhi delle persone, questo è quello che stiamo portando avanti. L'unicità è che esisteva già una struttura storica, un ampliamento, con questa ulteriore realizzazione si completa un processo in corso, e però la parte che viene realizzata è considerevolissima di dimensione, perché è quella che deve ospettare il corrispettivo degli attuali immobili che abbiamo nel centro di Pisa, dove c'è il vecchio Santa Chiara, che viene ceduto e trasformato in attività più consune alla localizzazione che ha adesso. E quindi c'è una grandissima occasione per cui un intero ospedale, un'intera azienda ospedaliera si riorganizzi nella maniera più opportuna. Diciamo che poi il momento storico è così importante che noi stiamo studiando molto il tema dell'energia e del risparmio energetico. E anche in questo caso abbiamo una risorsa unica che in altri luoghi è difficilmente reperibile, cioè la geotermia. E quindi noi stiamo studiando con l'Università di Pisa, ma anche con tutti i tecnici proposti degli uffici regionali, un progetto che preveda l'utilizzo di questa risorsa molto rilevante e del tutto verde per ridurre i consumi energetici che in tutti gli ospedali sono una quantità veramente enorme. Ci teniamo a parlare con chi lavora nel sistema sanitario direttamente, quindi con i professionisti, con le rappresentanti delle organizzazioni sindacali, perché da loro vogliamo sentire problemi che vediamo anche sui dati. Ovviamente le questioni principali sono il tema del personale. Qui a Cisanello non c'è un problema di trovare i professionisti che vengono a lavorare qui volentieri, ma c'è un problema dei limiti alla spesa del personale che noi sappiamo essere imposto dal livello nazionale e non eliminato. Ovviamente poi c'è il tema del rapporto con il territorio che è venuto forte, cioè come la mancanza di servizio sul territorio e di assorbimento delle richieste dei cittadini e quindi porta poi un accesso anche in proprio, soprattutto nel pronto soccorso, ingolfando e poi anche nel presidio ospedaliero e quindi si conferma che questa necessità di investire sul territorio, cosa stiamo facendo come regione e come paese, perché è una misura del PNRR, sarà determinante ed è una sfida davvero che interessa anche a ospedali come questo. Io faccio notare una cosa, intanto il nuovo Santa Chiara è uno dei progetti più belli che ci sono, più importanti, più centrali all'interno del sistema sanitario regionale. Io sono stato eletto per la prima volta in Consiglio Comunale a Pisa nel 2003, il primo Consiglio Comunale ci mostrarono un rendering del trasferimento dal Santa Chiara a Cisanello dell'ospedale. Stamani mattina abbiamo visto un rendering del trasferimento da Santa Chiara a Cisanello. Nel frattempo quanto ci è costato trasferire un reparto da Santa Chiara a Cisanello, tornare a Santa Chiara e tornare a Cisanello un'altra volta, o trasferire i pazienti avanti e indietro tutti i giorni? E quanto ci è costato tutto questo? Una voragine di soldi pubblici che speriamo trovi fine e soprattutto trovi conclusione a questo trasferimento che va avanti da quasi vent'anni. Direi che il progetto del Santa Chiara è veramente una cosa imponente, una cosa veramente bella. Ne testimonia la giornata del pomeriggio in cui abbiamo parlato con professionisti estremamente motivati. ci sono state anche delle critiche naturalmente, critiche che noi di fatto già conoscevamo in quanto specialmente noi, noi della Lega, il fatto delle tre asle l'abbiamo cavalcato perché le tre maxi asle per noi non dovrebbero essere tali ma dovrebbero essere a misura provinciale e è stato testimoniato anche dal fatto che dice che la filiera di direttore generale cittadino è troppo lunga. Questo proprio perché c'è una distanza abissale tra le zone decisionali del direttore generale e poi come le ricadute che abbiamo sul cittadino. Prosegue nel suo lavoro anche la Commissione Cultura del Consiglio regionale. In questo senso proseguono le attività in particolare del progetto Stati Generali della Cultura con eventi in Consiglio regionale e anche sul territorio. In Toscana ci sono quasi 65 mila occupati nel settore della cultura dove sono maggiori le incidenze di donne, giovani e laureati e il quadro illustrato dall'IRPET in Palazzo del Peito emerso analizzando i risultati dei questionari online proposti nell'ambito della prima fase del percorso regionale degli Stati Generali della Cultura. La cultura domanda lavoro qualificato, in prevalenza lavoratori altamente professionalizzati in nostra grande maggioranza laureati e proprio perché offre un lavoro che garantisce anche un buon equilibrio fra i tempi di lavoro e i tempi di cura e garantisce anche una elevata soddisfazione in termini di appagamento di capacità di realizzare i propri obiettivi professionali dal punto di vista del contenuto delle attività che si svolge meno o viceversa dal punto di vista retributivo e questo è un aspetto su cui bisogna migliorare e intervenire e oltre quello della precarietà che qui è maggiore rispetto ad altri settori. Tante energie che convergono per dare gambe a questo bel progetto di giunta regionale e consiglio regionale che vuol costruire le strategie sulle politiche culturali dei prossimi anni. La fase online ha coinvolto moltissimi operatori e lavoratori, quasi oltre un migliaio e molti di loro hanno fatto i questionari offrendoci tanti dati dai quali sono emersi già elementi importantissimi tipo il fatto che questo lavoro è un lavoro giovanile, un lavoro che impiega molte donne quindi un settore di sviluppo strategico per l'impiego nel nostro territorio. Per la Toscana la cultura è strategica e quindi ha bisogno proprio di una revisione per arrivare a poter programmare meglio tutte le varie attività quindi giungere a delle proposte di legge probabilmente che riusciranno in qualche mondo a dare delle linee politiche proprio per poter programmare meglio e quindi aiutare tutta la Toscana a essere veramente la regione della cultura. Noi tutti sappiamo quanto è il valore di questo settore per la Toscana ma sappiamo anche quanto tutti gli operatori dell'ambito culturale soffrano di una endemica mancanza di certezze di una retribuzione molto spesso inferiore alla loro preparazione e questa iniziativa avvolge soprattutto in questa direzione nel cercare delle soluzioni che tolgano a questo mondo la fondamentale precarietà di cui attualmente è caratterizzato. Restiamo in tema di cultura e di arte ci occupiamo infatti della Biennale dell'Arte di Venezia che ha visto nei giorni scorsi protagonista anche la Toscana. Vediamo. Un critico toscano alla Biennale di Venezia è Alessandro Romanini docente dell'Accademia di Belle Arti di Carrara che insieme al collega Massimo Scaringella ha ricevuto l'incarico dal Ministero della Cultura, dell'Arte e dello Spettacolo del Governo della Repubblica della Costa d'Avorio di curare il Padiglione Nazionale dello Stato Africano alla 59esima Biennale di Venezia. Il sogno di una storia è il titolo che i curatori hanno scelto per l'esposizione. Un progetto che è stato illustrato in Palazzo del Pegaso da Romanini stesso e da Letizia Chi tra i protagonisti dell'esposizione seguitissima artista 26enne ivoriana e attivista per i diritti delle donne. Abbiamo iniziato a lavorare quasi due anni fa e abbiamo cercato di selezionare quelli che sono gli artisti della nuova generazione ancorandoli però alla tradizione espressiva del loro paese perché tutti sono accomunati dalla volontà di riconnettersi con quella che era la cultura percoloniale e proporre anche una nuova formula. Qui abbiamo anche oggi una delle più giovani in assoluto del Padiglione ma anche della Biennale, Letizia Chi, 26 anni e insieme ad altri quattro artisti della Costa d'Avorio e un artista italiano hanno allestito una mossa che riguarda soprattutto la pittura e la fotografia con Letizia Chi e la scultura con l'artista italiano che riproponeva una iconografia propriamente del loro paese. Spazio anche al Mangiarbene in Palazzo del Pegaso dove è stata presentata la guida 2023 delle migliori osterie d'Italia naturalmente un ruolo da protagonista recitato pure dalla Toscana. La Toscana si conferma prima in Italia per numero di osterie nella guida nazionale 2023 di Slow Food presentata in Palazzo del Pegaso nella 33esima edizione della guida le chiocciole riconoscimenti che Slow Food assegna come tratto distintivo di convivialità e scoperta del territorio premiano la regione con sei nuovi ingressi per un numero complessivo di 27 i luoghi toscani nella guida sono 147 di cui 11 novità assolute. La guida osterie è una guida in continua evoluzione quest'anno abbiamo prima di tutto rimpinguato il nostro gruppo di collaboratori siamo 22 collaboratori per quanto riguarda invece le osterie abbiamo introdotto anche dei nuovi premi c'è un premio al bere bene che consiste in tutte quelle osterie che si impegnano non solo nell'avere una buona carta dei vini ma anche nell'offrire della birra artigianale dei distillati tutte quelle diciamo bevande selezionate con cura abbiamo in Toscana come diceva Gianmarco il maggior numero di chiocciole in tutta Italia e quest'anno presenti oggi alla presentazione ufficiale 6 nuove chiocciole che hanno appunto rimpinguato il numero delle chiocciole toscane che sono 27. La chiocciola per noi è il simbolo di prestigio dell'associazione cioè sono quelle osterie che hanno insieme tutti i loro requisiti che noi come Slow Food cerchiamo e oggi fra l'altro abbiamo le 6 nuove chiocciole della guida di quest'anno Certo, parte dal buono e deve essere logicamente buono deve essere pulito quindi senza anticrittogramici senza OGM senza pesticidi e soprattutto deve essere giusto cioè deve essere pagato il giusto rispetto al produttore che comunque dura fatica per realizzare quel prodotto lì È davvero tutto la puntata della Voce del Consiglio termina qui l'appuntamento come sempre è su RTV 38 tra 7 giorni e naturalmente potete sempre seguire sulla nostra emittente le novità relative ai lavori del Consiglio regionale della politica toscana grazie per l'attenzione e buon proseguimento su RTV 38 arrivederci Grazie a tutti